NOOOOO Io non voglio giocare, Lion, ti prego! Ma sei sce... Ha fatto io paura lui, che è la modalità! Ma è modo! Ma cosa ti pare? Parla calmo e di quello che vuoi! Cosa vuoi? Cosa c'è? No, Lion, vedi questa modalità, è troppo buia! Fa paura questa, è paurosa, sì Ma è un po' abbastanza paurosa, effettivamente Ma tu ovviamente devi giocarla per urlare che noi ci facciamo grasse risate! Ma tutti i notori della mia carta igienica! Ma è un'altra modalità sulla sorella di Alex? No, questa qui fa paura davvero, Anna, c'hai poco da ridere, perché tu sei la prima che si scorreggia Per favore, avevi detto che in realtà faceva paura solo ad Alex, cos'è sta storia? Allora, modalità, guarda, dobbiamo entrare qua, da quattro giocatori, vai, entriamo tutti Così, uno, due, tre e quattro Siamo in un recinto! Alticipaci qualcosa, almeno il mostro Allora, il mostro si tratta di Cassie la terribile bambina demoniaca che si risveglia No, 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 senti! Oh, sto parlando Di che colore c'ha i capelli? Eh, no, eh, ciao! Tipo la bambina Dethering No, però è una... Attenzione! Questo gioco contiene jump scare la luci lampeggianti e suoni forti quindi, occhio, eh, fa paura Se un altro giocatore lascia il gioco con un oggetto l'oggetto non verrà recuperato Vabbè, non ce ne frega niente Breaking news! La polizia ha chiuso il caso Dov'è Cassie? L'hanno trovata, capito? Per quelli che sono che non lo sanno Cassandra Anderson è sparita due mesi fa Capite? No, è troppo realistica! Guarda qui c'è Cassandra! Cassandra è troppo seria sta cosa! Conosciuta per i più come Cassie è stata vista l'ultima volta mentre usciva di casa Poche prove sono state trovate nella casa di Cassie e nella zona... Quindi non ci sarà della casa? Eh... La famiglia di Cassie è stata in un viaggio nelle passate quattro mesi all'estero Alex, sento che ti stai puto pagando Ci ha lasciato da quattro mesi una ragazzina a casa da sola? La famiglia sa che è scomparsa ma non è in grado di tornare quindi la famiglia non c'è l'hanno lasciata da sola La polizia non è riuscita a trovare abbastanza prove quindi il caso rimane irrisolto Amici, famiglie e polizia tutti stanno cercando risposte nel caso di Cassie Non l'hanno trovato! Perché non l'hanno trovato per Cassie? Dov'è Cassie? È morta o è viva? Qualcuno può risolvere davvero questo caso? Vi faremo sapere altri update qui su 1,2,3 News Buonanotte No, no, buonanotte ancora! No, 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 no raga non mi piace non mi piace Perché non possiamo andare al porco a giocare con gli gattini Ah, questo qui, questo qui, questo qui, attenzione forse siamo noi sorella di Cassie Sono pazzi? Hanno smesso di investigare troppo presto Ah, che schifo Eh, Cassie è la nostra amica Eh, non dovrebbe sparire così È strano Non fai la bucina Lion che tra poco ci spaventiamo tutti No, infatti, c'è, stai rovinando la tossella Dovresti risolverei questa cosa? Dovresti andare a casa tua, eh? Ah, questa è nostra sorella, mi sa No, no, che difficilità È nostra sorella Ah, nostra sorella ci manda a noi a fare le cagate No, ma scusa, ma la amica tua, ma faccete, oh No, 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 lei non No, no, aspetta, ma la metto Aspetta, aspetta, non vedo nulla Fermi, fermi, fermi No, 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 raga Calma! Basta, ma allora, smettetela subito Ok? Basta Se avete paura, guardate Cico, fa divertire Rosa È bello Meglio che guardo, scusa Guardati da solo Allora, c'è una chiave in terra La prendiamo tutti No Ok, io tengo la luce accesa Ah, basta che la prendi te Solo io tengo la luce accesa Ok? Per evitare che voi raspate mie palle Solo io Tu fai avanti a noi Sempre, vabbè No, 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 Lion è buio, è buio, è buio Non mi piace No, no, non voglio entrare qua C'è un corridoio buio, è buio Perché lampeggiava la luce? Perché qualcuno ha visto Cassie Abbiamo visto Cassie nel corridoio Ti frago, non è vero Ti fa paura Non esiste Cassie, Lion, non c'è il mostro Devi dire così Così ci tranquillizziamo Infatti non c'è nessun mostro, raga Però tranquilli, davvero Perché sennò mi fate venire l'ansia anche a me Cosa c'è? Ho visto che qualcosa può aversi lì Ma non è vero Ma smettila Allora, allora, raga, io ho paura del buio, per favore Allora, ascolta Oh! Che c'era? Che c'era? Che c'era? Allora, basta, basta Allora, no, 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 no Fatti chiare amicizia lunga Hai rotto le balle, ascoltami bene Se tu punti la luce da una parte Devi stare zitta Allora, la devi finire di fare così Basta Basta Devi fare la seria Non devi dare fastidio E allora mi fai tenere la luce anche a me? No Oh Allora, va bene Andiamo avanti Dobbiamo trovare qualcosa Una chiave Non succede niente a noi Vedete? Ottimo, ottimo Dobbiamo aprire una porta con la chiave, vero? Sì, bisogna capire qual è la porta giusta Non questa Tocca tornare indietro, uomo Sì, ma... Non potete smettere di avere paura Perché mi sta andando seriamente fastidio Basta Ok, ok L'hai aperto questa L'hai aperto questa qui, vieni qua Grazie Perché non si può andare Cosa? Senti Senti cosa c'è Così non si può fare Vabbè, allora si ha paura nel momento in cui succede qualcosa per poco tempo Poi si ritorna però È successo qualcosa adesso, eh? Che sì Siamo andati all'estero per diversi mesi per un viaggio da fare Sì, lo sappiamo La famiglia l'ha mollata E altamente improbabile che torneremo a casa prima che questo progetto sia finito Mi ha chiuso il foglio Aspetta Voglio finire Prendi quelle di te stesse della casa Presto ama mamma e papà Eh, non è che l'amavano tanto, eh L'hanno mollata Eh, infatti Ha una cannata real good, eh, povera Cassi Comunque nel corridoio non c'è niente secondo me da gare in cucina In cucina ancora Allora c'è una padella per terra, non si può prendere Sopra i fornelli qui non mi pare che ci sia niente Ci sono padelle, piatti, la sedia Forse, sai che mi sa che questa sedia che prima non era rovesciata Forse si è spostata un po' È caduta adesso? Potrebbe essere Eeeh Mmm Magari bisogna mettere anche le tazze Perché qua c'è una tazza che puoi raccogliere Oh, no, Ion, guarda Su questa sedia c'è un bastone Aspetta Eh, sì, il bastone si può prendere, infatti Oh, anche qui è vero Ce ne sono tanti Ah, allora Il bastone è una gamba Quindi credo sia la gamba Di una sedia, forse Cioè c'è qualche sedia che le mancano le gambe Guarda, c'è quest'affare qui, guarda Che ha una gamba uguale a quel bastone che hai preso Infatti mi sa che devi unirlo Dovevo ricostruirlo Ce ne sono un sacco di bastoni in giro Aspetta, eh È vero Infatti vedi l'hai messo Ma è tipo un bracere questo Mi sa che qua si accende il fuoco, eh Spegnete le candele Non fa piacere avervi con le candele intorno Mi dispiace Ne torce, ne candele, Cico Spegni Ok, aspetta tutto Troviamo le altre Le altri pezzi di legno Ma c'è un altro bastone qua Dove sono io Ok Ok Perfetto E mi sa che l'ultimo è questo qui Perché c'era uno all'angolo Sono tre bastoni Vediamolo Mi avvicino è un po' buio Però un po' Ok L'ho messo Ne manca uno E' questo qui Ok, ok, ok Ultimissimo bastone Oh Però appena lo devi dire E qua succederà qualcosa, eh Secondo me Per forza La morte Ok E lo metto qui Fatto Cosa hai fatto? Prova ad accenderlo con la candela Mmm Secondo me qua bisogna mettere qualcosa Aspetta, vediamo Eh, esatto Prova a metterci la candela No, no La candela non si può mettere Le gambe le abbiamo prese Ma è qualcosa da bruciare Una scodella magari bisogna mettere Può essere Esatto, magari una ciotola Perché sembra che deve reggere qualcosa Aspetta, è un bel problema prendere un'altra ciotola però Perché noi le abbiamo messe E mi sa che non si può togliere da lì No, non si può prendere Questo qui uomo È lo stesso texture qui È lo stesso colore Vedi, è un piattino Piattino, vediamo Eh sì, è questo qua È il piattino per fare il rituale secondo me Che me sembra un dai Ma perché continui a dire rituale? Questo qui è uno sgabello Ok, l'ho messo E adesso? Non è che si appare che si è seduta sopra Ho capito Che serve per arrivare da qualche parte Questo sgabello serve per salire sulla cuscina Dici? E guarda, vedi? Se ci cammini sopra puoi salirci C'è qualcosa sopra il frigo? Guarda un po' Allora, sopra il frigo c'è qualcosa effettivamente Ho capito No, no, ragazzi Terribile Cos'era? Cos'hai preso? Cos'hai preso? Allora, io ho preso la tavola Ouija Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Chiudi la porta Si può chiudere Non si può chiudere Chiudi la porta Allora, io ho preso una tavola Ouija Ma non so dove l'ho messa Perché non ce l'ho io nell'inventario Quindi devo averla portata da qualche parte Quindi dobbiamo andare a cercarla Guardati a destra e a sinistra un po' Venite, venite, venite Non mollatemi da solo, eh Non mollatemi Qui non c'è All'ingresso? Le porte Comunque, tutti quei botti sono robe che si rompono Tipo in cucina C'era una mensola rotta Eh, ho visto, ho visto Perché c'è lei, eh Lei è presente nella casa Però non... Non ho visto porte aperte La tavola Ouija Non la posso prendere Controllate bene in cucina Magari c'è qualcosa di nuovo Perché da lì non c'è più la tavola, eh Ovviamente l'ho spostata da qualche parte Però non so dove Qui, qui, qui L'acqua è la serie che è caduta C'è una chiave sopra Guardate Però non c'è la chiave Perché mi sa che era sulla mensola La mensola che è franata poco fa Infatti si è rotta adesso Ok Adesso dobbiamo trovare la porta che si apre Con questa chiave, eh Le provo tutte Questa Guarda quest'altra in fondo Se c'è qualcosa dentro Senti un urlo veramente Ok, ecco, eh E c'è la tavola C'è la tavola, ragazzi No, 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 no Che si ha giocato con la tavola Ouija Ah, stiamo ricostruendo, capito Ma perché non c'è messa le mani in tasca? Stiamo ripercorrendo tutte le cose che ha fatto Cassie E una delle cose che ha fatto è stata giocare con la tavola Ouija Certe cose non vanno disturbate, ragazzi Bisogna lasciarle dove stanno E c'è ancora una caldella accesa, Lion Mi sa che è ancora qui, è lo spiso Aspetta, allora, fammi guardare un attimo in giro Per vedere se ci sono delle cose da raccogliere Qui c'è un libro Lion, possiamo tenere anche noi la candela per aiutarti? Eh, non vedete niente niente senza, vero? Niente È assolutamente nulla Vabbè, tenetela, dai È che è un po' giallino Però va bene, se avete bisogno di vedere tenetela anche voi Io qua ho trovato qualcosa, per esempio Vieni, guarda là Andiamo Eh, allora, in teoria questo qui è lo switch della luce Cos'era? Che hai fatto? Sei riuscita? Non male Ok Non si vede molto meglio Però, ok, va bene Un pochino meglio, d'accordo Adesso abbiamo davanti a noi la tavola E vedo che c'è una candela accesa Secondo me Bisogna mettere le altre candele Negli altri angoli poi ha senso Ma le nostre? Ce n'è una qui nella pianta Secondo me vanno raccolte quelle che stanno in giro Eh, mi sa che ha ragione lei, eh Vediamo No, ma quante servono? C'è servono tipo cinque Sì Servono quattro Servono le candele Queste qui Oh no? E infatti me l'ha messa Ok, allora Ce n'è anche una qui nel tavolino Ce n'è un'altra sul televisore Ok, stiamo andando bene Stiamo essendo estremamente coraggiosi ragazzi Non dovete avere maura Tu li senti i rumori, vero? Bassi, per fortuna Quindi tranquillo Io sento che bussa Non mi sono caccato sotto Allora, candela Ce n'è un'altra qui dietro il divano Ok Io mi gestisco la luce per vedere il meglio possibile Eh, ma c'è solo una allora Qui Oh, questa è qui Aspetta Allora, candela dietro il divano L'ho presa La porto qui Non vuoi metterla Non vuoi metterla L'ultima è tabella Non mi piace Non mi piace Non mi piace Ok, messa L'ultima è qui Ah, la vedo Ok, è rossa questa, eh Pronti, eh No, no, no Qui, secondo me, arriva Ok, vado Vedo, vado, vado L'ho messa Cosa c'è? Si è acceso Si è acceso Perché brilla? Perché sto brillando Perché brilla? Perché brilla? Te lo dico io perché brilla Cos'era quel suono? Cos'era quel suono? Vieni da di là Vieni da di là Vieni da di là Non mi posso muovere Neanche io, neanche io Tranquillo No, 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 no Qualcosa urlo, eh Si è acceso Qualcosa urlo E non ti vedo Oh No, 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 no No, no, no No, no, no Penso che Cassie sia posseduta No, non mi dire Ma almeno non c'eravamo arrivati noi altri, eh Chi l'avrebbe mai detto, guarda Stai scherzato Stai scherzato Stai scherzato Eh, aveva detto una cosa, mi pare Che ha sentito qualcosa accadere, forse Eh, io l'ho vista, mi sa, pure nella libreria Nella libreria Nella stanza dove eravamo prima Forse un'altra chiave Sì, sì, sì No, mi sa, un libro, qui Ho visto qualcosa accadere verso questo lato Eh, ci sono dei fogli per terra Oh, qui, 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 qui C'è il diario di Cassie Uh Non dovremmo leggerlo, secondo me Eh, non si può prendere Non si può prendere, eh Non si può prendere questo Puoi leggere sto foglio, però Sì, questo foglio dal diario lo posso leggere Allora Spiriti per desideri Step 1 Contatta uno spirito attraverso la tavola Ouija Step 2 Sacrifica 5 oggetti personali Aspettate perché mi si chiude ogni volta Devo rileggerlo, eh Eh, uno essendo la tavola Ouija E altri 4 oggetti a spirito È un po' difficile perché tradotto male Spirito Ti possiederai i tuoi 5 oggetti Per diventare più forte E ritornare alla realtà Step 4 Lo spirito premia l'umano con 3 desideri Se ha successo Proteggerà l'umano Step 5 I 5 oggetti devono essere protetti Se vengono distrutti Lo spirito sparirà E i desideri verranno roti Quindi dobbiamo sacrificare 5 oggetti personali Uno E la tavola Ouija Lei lo ha già fatto Ah, lei lo ha già fatto Noi dobbiamo trovare quei 5 oggetti personali E distruggerli Così lo spirito ce ne va Però sono 4 Perché uno dice che è la tavola Ouija Altri 4 oggetti Da quello che ho capito io 4 o 5 Beh, uno sarà il diario Eh, però fermo Qui c'è la chiave Dietro il libro che è caduto Vedi c'è una chiave apposta Ah, ma... Dopo la stanza di Cassie, magari Ottimo 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 Allora Tra questa? Sì E' il piano No, no, no Basta, basta, basta No, però Tranquilli, tranquilli Ma perché sta lì? Tranquilli Questa è la camera di Cassie Guarda, guarda che realismo Mamma mia Lei l'ho lasciato Lei l'ho lasciato Lei l'ho lasciato E' posseduto E' posseduto E' uno degli oggetti vuol dire Lo prendo No, non prenderlo Non prenderlo Non lo posso prendere, credo Purtroppo Meglio Neanche nei cassetti posso guardare Ah, ok Quindi non è un oggetto che ci serve Dobbiamo trovare quattro cose Che lei ha usato Una è qua Ed è un pezzo Qui, qui Lion qui Dietro questo puff C'è un qualcosa che non riesco a vedere Ho capito, ho capito Allora, dobbiamo mettere i pezzi Nella scacchiera Perché dobbiamo terminare la scacchiera E forse a lei piaceva Ma quanti ne mancano tantissimi Questo è un altro Ogni volta che lo metti sento un passo Sì, anch'io sento dei colpi Sto vicino a qualcosa Spostatevi Fate largo Qui c'era un altro nel letto Questo è un altro Lo porto Ok Nel letto Questo nero Ok Ok Ne mancano quattro Adesso tre Ok Anche qui nella scarpiera lì Come si chiama lì Ok, sì, lo vedo Ne mancano ancora Io guardo le scale Se arriva qualcuno C'è uno qui vicino al cestino Ne mancano soltanto due Qui Uno è qua Adesso ne manca solo uno Ok L'ultimo Tutto il letto? Eh, non lo vedo io Vicino alla coperta È vero, è vero Bravi Ok Ok, fatta Ho perso qualcosa È un pennello Una spazzola Sì, in realtà è un pennello Brush sarebbe Ok, quindi questo sicuramente È uno degli oggetti di Cassie Perché se vedete Lei amava dipingere Aveva un quadro pronto Per essere iniziato E c'è un altro pennello Quindi sono più pennelli Non è che magari Vanno usati su quella tela? Eh, magari fa dipinto Esatto Oh, c'è un altro qua di pennello Sì, esatto Allora Con ogni colore Se io lo uso Sopra l'oggetto Qua, la tela Mi dà un numero Stampato Disegnato Probabilmente Dallo spirito di Cassie Cioè, lei ci possiede Per farci disegnare Questi numeri E ne abbiamo tre al momento 615 Ciclo, scrivitelo Ricordatelo Ok, me lo scrivo io Però quanti ne manca? 2, 1? Oh, eccolo 6815 È finito così Non ho sentito niente voi Ricordatevi anche i colori però eh 68 Ok, scriviti anche i colori Cico 6 giallo 8 verde 1 blu 5 rosso Devi stare zitto mentre io parlo Se lo fai di nuovo Ti finisci tutta la modalità Calci nel sedere No, no, ti sei vero No, ti prego Ok, andiamo Si è aperta questa cosa qui Dove? Lo scrigno Ma è vero lo scrigno Urca Chiave del bagno No, no, andiamo Andiamo nel bagno ragazzi Dobbiamo arrivare in fondo I bagni sono sempre quelli più horror, lo sai Non ti preoccupare Cosa vuoi che succeda? Non mi piace Lion Apriamo il bagno Ok, ci siamo Allora, nel bagno Vediamo Abbiamo una vasca Cosa c'è? L'hai sentito? Cos'era? Qualcuno l'ha scritto Vagamente Vagamente l'ho sentito Matteo che si apre Lo apro Va bene Ho preso un pezzo di specchio Alex, per contesia Ciccatelo in bocca E mangialo Anna Chiedi subito scusa Chiedi subito scusa No, hai rotto le balle con sta volgarità gratuita Chiedi scusa Usa Cioè, non è che perché tu ti cagli addosso Devi essere una cafona, eh Basta È la paura che la fa parlare Eh, ultimamente troppa paura allora Basta Allora Abbiamo un pezzo di specchio Dove lo dobbiamo mettere? C'è un'altra nella vasca Vediamo se ce la fa essere una cafona un'altra volta L'altro nel cestino Avevo trovato tutti Ah, ma si mettono Questo è lo specchio? Sì, vedi? L'ultimo è qui da me Ok, occhio Metto lo specchio Ragazzi, compare qualcosa sullo specchio sicuro Tranquilli, eh Adesso lo metto L'ho messo Ho sentito un rumore Non è successo niente Oh, c'è uno spazzolino nella vasca La spazzola per lavarsi, credo Ok, spazzolino ce l'abbiamo Anche uno dell'armadio Ma scusate, ma lo specchio non fa apparire niente Non è che ne manca un pezzo ancora Provo a fare la spazzola sullo specchio Ok, provo No No, 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 no Però ecco gli altri spazzolini Ce n'erano uno anche qua sulla tavoletta del bagno Allora, questo non si può prendere Questo nell'armadio si può prendere Poi Uno dentro la tavoletta del bagno Questo qua Ok, ho tre spazzolini E dove devi metterli? E ci sono tre specchi No, non credo che lo spazzolino vada usato lì Ma sai cos'è? In teoria dovrebbero essere gli spazzolini di tutta la famiglia Di Cassi, della mamma e del papà Ma se, provo a metterli qui Perché se ne c'è uno E non posso prenderlo Ok, beh, bravo E infatti vedi? Sì, 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 sì Ok, li ho messi Cosa c'è? Qualcuno ha rispiato di nuovo Basta eh L'ho sentito anche io Ci ha dato la chiave La vidi lì Oh mamma mia Sì, la vido, la vido, la vido Calma però eh Stiamo panicando troppo Ok? Ok, basta Ok, tanto i chapschiali non possono sbagli a caso Non possono far paura no Bisogna sbagli a cazzo Bisogna sbagli a cazzo Esatto Cioè, si tratta di mettere degli spazzolini così Se non interagisci Questa cazzo è questa? No, cosa stanno No No, no, no No, no, no In basso Dai, non l'abbiamo interaggita niente Non ci posso fare Dai, siamo vicini Stiamo salvando la vita a Kessy Siamo felici noi Sotto terra è brutto Non ci si va mai nello scantinato Sotto terra abbiamo La combinazione Cico 6,8,1,5 Cos'era? Se sbaglio secondo me succede qualcosa di brutto Lei non sbaglia È giusta Ma non si è aperta la cassaforte E di aprire la tubisa Ok Sì sì esatto 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 Leggo oggetti personali protetti Promemoria perché si tiene questi oggetti protetti di danni Questi cinque oggetti sono posseduti dallo spirito Aspettate Per rimanere forti e rimanere nella nostra realtà Oggetto 1 tavola Ouija Oggetto 2 diario Oggetto 3 orsacchiotto Oggetto 4 foto personale Oggetto 5 censurato Allora ci consegna Tavola Ouija ce l'abbiamo Il diario sappiamo dov'è Orsacchiotto sappiamo dov'è Foto personale in bagno E l'oggetto 4 L'ultimo sarà qui per forza Ma che facciamo a capirlo però qual è? E ce lo farà prendere Però sai cosa c'è qui? C'è il fuoco Noi li dobbiamo buttare qua nel fuoco Nel fuoco È vero Sì sì allora Ricorda bene gli oggetti che ti ho detto fino ad adesso Sì me li sono proprio scritti Ho visto gli oggetti personali sopra Sì lo sappiamo Ma uno non è di sopra però Ah forse bisogna andare e iniziare a prendere Quelli che sappiamo dove sono Possibile Ok Dai sappiamo come procedere Allora dobbiamo risalire di sopra Coraggio alla mano D'accordo? Coraggio alla mano Cominciamo con la tavola Ouija ti prego Appena ne pigli uno Perché è qui? Perché è qui? Non ti preoccupare Nessuno nessuno Tranquillo Sono passato io Volevo pulire sotto Ok? E quindi l'ho spostata Stai mentendo No 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 è davvero L'ho spostata io La brucio Bruciala 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 Forse non si deve Non me la fa bruciare Mi sa che li dobbiamo prendere prima tutti Oppure non dobbiamo bruciarli Cioè voi dite che per rompere la maledizione Dobbiamo bruciare tutti quanti gli oggetti Cioè avete capito così? Noi ne faremo prenderli Ok Allora prendo la foto di Cassie Che è il secondo Ok Sicuramente le devi avere tutti Avete ragione voi Il l'orso è l'orso è l'orso è l'orso è l'orso a sinistra Ok qua sopra Beh non sta succedendo niente dai Stiamo tranquilli Oh no appena li prendi tutti Ho fatto che la tavola Ma questo giocattolo c'era qua in mezzo? Sì 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 Poi all'altra stanza di fronte C'era il diario di Cassie Il diario per terra Che era qui Eccolo qui Oh il diario l'abbiamo tutti no? La tavola qui già si è mossa di nuovo mi ha detto Eh l'abbiamo già presa però Noi lo sappiamo Perché si è spostata Ok quindi quella si spostava da sole Era più difficile da provare Andiamo a bruciare le cose Andiamo a bruciare le cose Eh no però Perché manca un oggetto Ricordatevi che ci ha detto Che uno degli oggetti Era censurato Quindi quello lì Non sappiamo che cosa sia Quest'ultimo oggetto Eh sì ma come facciamo a saperlo? Non c'è scritto da nessuna parte Posso provare ad avvicinarmi a bruciare questi eh Prova un po' Vediamo se Eh no fratelli miei No Non mi fa bruciare niente E con il nome ne quasi c'è qualcosa da toccare Ne manca uno Manca l'ultimo oggetto di Cassie Per l'ustriamo Da qualche parte ci saranno? Tecnicamente se ti ci avvicini Secondo me è di sopra E se Penso che se ti ci avvicini Ti dice comunque raccogli Penso che anche a voi lo dica No raccogli l'oggetto Sì sì Ma se ce lo dice anche a noi? Noi cerchiamoci Dividiamo un po' Cosa facciamo? Mai dividersi la morte A meno che Sì dividiamoci A meno che Non sia Che noi questi oggetti Non dobbiamo buttarli nel cammino Ma dobbiamo farci qualcos'altro magari Non lo so Portarli in un punto Ma se dobbiamo farci tipo un rituale Di mettere la tavola di Ouija Là e tutti gli oggetti Ma come diavolo stai parlando scusa? Eh lo so Però ho paura La tavola Ouija Scusa Bistarion ti prego Io non voglio stare qua Dentro più tempo del necessario Alex vuoi fare 6 ore di questo gioco Bellissimo Non voglio fare 6 ore di questo gioco Da solo Stai vicino così Parlo bene Biasci Un'altra mezza volta E te lo giochi 12 ore Ti fai una maratona Di questa modalità Ok Ho capito Ma non lo farò Perché non voglio morire Allora vediamo se serve Da rifare il rituale Perché magari sai Eh non si può mettere Però io ho sottovisto una cosa Bistarion Vieni con me No infatti qua non si può mettere Dai ti seguo Confido nel tuo grosso sedere Allora Io sono bastante sicuro Che non funzionerà Però qui c'è un tavolino Che è letteralmente uguale A tutti quelli In cui abbiamo messo le cose Ah eh può essere Che dobbiamo rifare il rituale Questo qui Ok È vero Trovate i miei spazzolini Hai ragione Infatti vedi È bravo Allora la foto di Cassie Orsacchiotto Diario E adesso l'ultimo qual è Solo 4 dei 5 oggetti Sono conosciuti E questo l'abbiamo capito Devo bruciarli Rivoglio Cassie Ok Va bene Non ho capito Ma ne manca uno Inizia a bruciare questi però E come E li bruciano Lo devo prendere Provo a prenderli in mano E io posso prenderli Vai Aspetta Ok L'ho bruciato Ok Continua No è la fine Tavola guigia La seconda Bruciata Questa è rabbia Questa è rabbia Sa rabbia di brutto Immagine di Cassie Ecco qua Ok No adesso arriva di brutto Arriva fortissimo Orsacchiotto Dobbiamo iniziare a pensare Quale potrebbe essere L'ultimo oggetto Eh raga Perché non ci lo dirà Ho tirato dappertutto E non l'ho visto niente Cos'hai visto Cos'è T'ha perso Cassie Cassie Venite È un portale Cassie ha aperto Un portale Per una dimensione Sembra che stia bruciando Gli oggetti personali Distruggendo lo spirito È buono È quello che volevamo fare Stiamo andando alla grande Eh ma ci manca un oggetto però Non sappiamo qual è l'oggetto Aspetta però Forse era lei eh Dove è andato lo spirito Non mi piace Non mi piace Dove ha portato Cassie Quindi lo spirito non è Cassie È uno spirito che ha preso possesso di lei Forse ha attraversato il portale No dai ti prego Non dobbiamo andare dentro No ti prego O forse ha ucciso Cassie Ho ucciso Cassie per sbaglio Facendo questo contro rituale Abbiamo integrato abbastanza Basta Ah no abbiamo vinto Guarda Disconnessione Sei stato espulso È finita la parte 1 Mi hai espulso anche a me Beh è stato Bello però eh Voi siete Non siete da portare Siete dei poveracci Dei cagassotto Tu cico Io ti posso dire Tu sei un vero piscialetto Un piscialetto Alex non ne parliamo Si è urinato Vatti a cambiare per favore Vai perché non voglio parlare Con una persona tutta urinata Tu Anna Diventi una cafona Quando ti spaventi Diventi una vera e propria cafona Ma scusami Ma ci fai faccia fa paura Non ti scusami Adesso chiedi scusa a tutti Di nuovo Vedo scusa Una cafona Non diventate così come questi qua Siate come me Che reagisco con Coraggio alle cose Per oggi però Ci dobbiamo salutare Grazie di aver seguito questo video Anche se vi siete cagati sotto Anche voi E Lion Out Ciao